Siamo con Chiara e Veronica alla presentazione della nuova linea di gioielli di Bulgari e quindi stiamo chiacchierando di accessorio di gioielli con loro e vediamo che cosa hanno da dirci le ragazze. Cosa pensate degli accessori? Avete qualche preferenza o scegliete prima un accessorio o prima il look? No, prima dipende dai giorni. Io punto molto più sugli accessori rispetto ai vari vestiti perché i vestiti compro spesso low cost in catene quali Zara, KM, Topshop mentre gli accessori cerco sempre di puntare o su accessori vintage che abbiano la particolarità di essere più introvabili in giro oppure su accessori un po' più costosi visto che vengono usati molte volte quindi dipende proprio dai giorni però gli accessori sono sicuramente importanti per i miei look. Io cerco di puntare gli accessori per imprezziare un po' il look ad esempio i look molto semplici per arricchirli appunto con accessori e devo dire che è una delle poche cose che mi viene molto naturale nel senso che quando mi vedo vestita nel mio look completo mi viene automatico abbinare un altro tipo di accessorio quindi non è una cosa da cui penso molto e mi viene abbastanza naturale.